Ciao a tutti, sono Cristina, un inferiore del pronuncio corso di Chioggia. Oggi mi trovo in spiaggia per ricordarvi che cosa? Che il giorno 27 giugno alle ore 16 presso Stabilimento Baneare Bagno Arcobaleno iniziano i corsi di animazione cardiopolmonare, un corso gratuito aperto ai cittadini e ai turisti e a tutti coloro che vogliono imparare a riconoscere un arresto cardiaco e a eseguire un corretto massaggio cardiaco. Cosa dire? Vi aspettiamo i numerosi perché noi abbiamo bisogno di voi per salvare la vita di una persona. Ciao a tutti!